Anche Mick Jagger invecchia, il frontman dei Rolly Stones, compie 80 anni anche se nel temperamento resta giovane e scatenato. Intende festeggiare il suo compleanno in grande stile, secondo i tabloid britannici, organizzando una grande festa a Londra. Bad Boys, sex symbol per eccellenza, rock star senza rivali, fa parlare di sé da decenni con le sue provocazioni, i suoi eccessi e le sue conquiste e continua a scatenare le folle sotto al palco. Sembra inarrestabile. Di recente ha fatto un tour in Europa con i Rolly Stones per celebrare il sessantesimo anniversario della band. Era la prima volta senza il batterista Charlie Watts, scomparso nel 2021. Sebbene sia ancora in gran forma, Mick Jagger si è sottoposto a un intervento chirurgico al cuore nel 2019, ma la sua celebre dieta draconiana a base di yoga, succhi di erbe, frutta e vitamine lo ha preservato snello, in forma e pieno di energia.